Siamo a Lago Patria, vicino a Giuliano, dove c'è la base Nato. Abbiamo appena fatto il nostro presidio e sono qui con Eleonora. Eleonora è una compagna di Donetsk, una compagna del Donbass, che in questo momento è stata qui in manifestazione con noi e che vuole dire due parole su quello che davvero sta succedendo, perché la prima battaglia che dovevo fare è quella per la verità. Allora Eleonora, tu di dove sei intanto? Io sono di Donetsk, abito a Napoli già 20 anni. Vi ringrazio tutti. Tu però ancora conosci la tutti? Come? La Donetsk è tutta la mia famiglia, la mamma, sorella con marito, i miei figli con i nipotini. Siamo molto preoccupati di situazioni di oggi, perché arrivano bombardamenti massigli. Prima è stato un po' di tregua. Aspettavamo che più o meno possiamo risolvere il problema con modo politico e diplomatico. Invece no. Stanno sparando? Stanno sparando. Ieri è stato sventato pure un gasdotto a città di Lugans. Siamo molto spaventati. Stanno evocando adesso il popolo nostro, diciamo, la prima cosa i bambini piccolini, le mamme con figli e i anziani. Ma dopo vediamo. Però tante gente non vogliono uscire da casa sua. Diciamo, questa è la nostra casa, questa è la nostra terra. Facciamo combattere e difendere fino all'ultimo goccia di nostra sangue. Donbass mai è stato messo nel ginocchio. E mai fa messo. Senti, Eleonora, ma chi vi spara? Perché non tutti lo sanno. Pensano che siano i soldati russi travestiti. Chi è che vi sta sparando? Purtroppo non c'è soldati russi nella nostra terra che magari difendono noi. C'è da otto anni che esercito ucraino equiparato dall'Occidente, dall'America, che sparano da otto anni le nostre terre. Prima è arrivato addirittura pure l'aereo e l'elicottero che sparavano pure il Tochka-U, un missile più grande che possiamo avere. Sono stati tanti morti, c'è duecento bambini morti nel questo conflitto. Piangiamo ogni morto, c'è i nostri difensori morti. Otto anni ogni giorno c'è qualcuno che muore. Quindi voi non è che state invadendo, voi rischiate di essere invasi? Sì, noi difendiamo la nostra terra. Noi facciamo combattere contro l'invasione militare ucraino-americano-europeo. Questa è la verità. Che non c'è i russi. In Crimea, quando dicono che sono arrivati i russi, nessuno è andato a bombardare la Crimea, perché là veramente è stato esercito il russi. Invece da noi non c'è. C'è volontari da tutto il mondo. C'è da Cile, c'è da Francia, c'è da Italia, c'è dalla Russia. Però l'esercito russo non esiste proprio. Quindi sono i vostri combattenti, sono in realtà il popolo del Donbass? Sì, alzati e presi in mano armi i nostri minatori, i nostri taxisti, i nostri insegnanti. Pure le femmine che prima facevano casalini che andate nell'esercito fanno adesso o dottoresse o infermieri. Allora tutto il popolo nostro, perché siamo una regione molto proletariata e molto di sinistra. Invece quando ha vinto il colpo di Stato nazifascista Nucana, siamo contro di questo. Non vogliamo essere nazifascisti, non vogliamo onorare i collaboratori di Hitler. Siamo veramente un popolo pacifico, però quando qualcuno attaccherà non facciamo rispondere, facciamo difendere la nostra terra. Ecco, e quindi come hai concluso qui nell'intervento, cosa dite? No pasarán? No pasarán, vinceremo tutti uniti, tutti insieme. La verità è nostra, la vittoria era nostra. Grazie Eleonora, questa è una voce dal Donbass, perché almeno noi diamo le voci dal Donbass, non le voci della Nato o dei nazisti che stanno combattendo per conto della Nato. Grazie. Io chiedo scusa della lingua italiana. Ma che chiedi scusa? Anzi, non riesco a dire.